Il tentativo sarà quello di ricucire una ferita profonda ma non impossibile da curare. Sono tutto sommato ottimisti che le previsioni dietro all'incontro che alle 10 di domani mattina, presso la sede della Prefettura, tenterà di mettere d'accordo tutti i comuni dopo che la scorsa settimana, durante una seduta straordinaria del Consiglio Comunale, era stata decisa l'uscita del paese di Caspoggio dall'Unione dei Comuni della Valmalenco a partire dal 1 gennaio del 2021. A pesare, dopo la votazione che per 8 su 3 aveva decretato l'opzione uscita e all'origine della quale stava la discrepanza tra i comuni dovuta alla rimodulazione delle percentuali di spesa proposta a gennaio dal Sindaco di Chiesa Renata Petrella, anche le posizioni della minoranza guidata da Arif Negrini che si era dissociato dal modus operandi del primo cittadino Danilo Bruseghini. Perfetto, domani un incontro che si spera possa essere risolutivo per quanto riguarda l'Unione dei Comuni della Valmalenco. L'auspicio è quello. Ho lavorato in questi giorni per approfondire le norme che regolano le Unioni dei Comuni, lo statuto di questa Unione, ho ricevuto i sindaci in momenti diversi e li incontrerò domani insieme e quindi avremo un confronto, mi auguro, costruttivo e ci sono tutti i presupposti perché si possa dialogare e confrontarsi senza pregiudizi.